Penso anche prima di Amariglia che per me è un dubbio che saltava davanti, non so, però come dice, questo è il futbol. Non posso giudicare l'arbitro perché è l'arbitro, ha fatto la scelta, mi dispiace per me e per l'equipo, però questo è il futbol. Hai toccato o non lo hai toccato? Con le piedi no, con le piedi no, con le piedi no, però non è la falta di Amariglia. Grazie a tutti.